Un pubblico infila in attesa del biglietto per entrare al circo distratto da manifestanti animalisti con volantini e megafono. Questa è l'atmosfera di protesta creata dai cittadini che si sono riuniti ieri sera davanti al circo Orfei da poco arrivato in città. Ai nostri microfoni due animalisti che hanno spiegato la loro motivazione e merito. Dobbiamo sensibilizzare la popolazione in merito al circo sugli animali. Il circo sugli animali molto spesso è un maltrattamento che va oltre quello che si vede nella scena, un maltrattamento che il più delle volte la popolazione non conosce, le persone non conoscono. Quindi è meglio che si sensibilizzi la gente a capire cosa ci sta dietro. Noi siamo qui per questo, speriamo che la cittadinanza possa rispondere favorevolmente a questa nostra protesta che è la prima in assoluto in questo paese. Speriamo che sia veramente l'inizio di qualcosa che possa cambiare. E vorrei dire che ci sono anche circhi senza animali come il circo De Soleil che è famoso in Francia. Ci sono, informiamoci, ci si può divertire anche senza animali. Non per forza ci deve essere sfruttamento, che molti mi hanno detto sì, con tutti i problemi che ci sono a tavola dovete pensare per forza agli animali. Cioè l'ultimo problema sono loro giustamente. No, perché loro non hanno voce, noi ce l'abbiamo e quindi stasera siamo qui per manifestare contro e dare voce a chi non ce l'ha. Una protesta che a quanto pare, secondo quanto riferito dagli animalisti, proseguirà anche sabato sera alle ore 21. Grazie. 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 Grazie.